Ben ritrovate a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare il motore di ricerca chiamato DuckDuckGo. Non so se ne abbiate già sentito parlare o meno, fatto sta che sta prendendo sempre più piede questo motore di ricerca per i motivi che vedremo fra un attimo. Si tratta di un motore di ricerca in internet come lo è per esempio Google, Yahoo o Bing. È un'alternativa a questi motori di ricerca forse più noti, non lo so se sono veramente più noti ancora oggi come oggi o meno, comunque è un motore di ricerca come quelli che ho appena citato. La pagina principale di DuckDuckGo è questa, proprio col suo nome DuckDuckGo.com Duck in inglese è anatra praticamente, infatti qui vedete sullo sfondo del video che mi sono già posizionato sulla pagina principale di DuckDuckGo e la sua icona, il suo simbolo è proprio un anatra, un anatroccolo con un farfallino. Eccolo qua. Perché vi voglio parlare di questo motore di ricerca quindi? Tutti usano Google, perché andare a cercare un'alternativa se va bene Google? Beh, sicuramente Google va bene, questo non si può negare. Ed è praticamente omnipresente ed è un eccellente motore di ricerca, chiaramente, non si può negare. Ma è anche, sappiamo benissimo, che è anche, fra virgolette, piuttosto curioso. E qui non nascondo un po' di sarcasmo dietro questa frase, fra virgolette, queste due parole, fra virgolette, perché è ben più che piuttosto curioso. Però, vabbè, ho dovuto essere gentile. Quindi, nei nostri confronti è curioso, perché? Perché sappiamo benissimo, o dovremmo sapere ormai, che le ricerche vengono tracciate. Quindi Google tiene traccia delle nostre ricerche. Perché? Le intenzioni sono buone, diciamo così, sulla carta. Le intenzioni sono buone perché tracciando le nostre ricerche, quindi imparando a conoscerci, Google riesce a darci risultati migliori e più mirati, secondo i nostri interessi. Sicuramente, o quasi sicuramente, se io e te, che stai guardando questo video, facciamo la stessa ricerca, con gli stessi termini, con ogni probabilità otteniamo risultati diversi con il motore di Google, perché tu hai interessi quasi sicuramente diversi dai miei, e quindi, usando le stesse parole di ricerca, Google conosce te e conosce me, e ci darà dei risultati più confacenti ad ognuno di noi due, quindi diversi, malgrado le stesse parole usate. Ma non solo. Infatti Google è un'azienda che, della pubblicità, questo lo si sa, non è un segreto, ha fatto il suo core business, ovvero la sua attività principale aziendale. Google vive di pubblicità e quindi, guarda caso, assieme ai risultati delle ricerche, riesce anche a visualizzare sempre annunci pubblicitari mirati per il proprio paese, per la propria lingua e per i propri interessi personali. Quindi, ancora una volta, se io faccio una ricerca con determinati termini di ricerca, e tu fai la stessa ricerca, riceverai, oltre a risultati diversi, anche inserti pubblicitari diversi, personalizzati. Questo ormai lo si sa, anche se forse siete talmente abituati ad usare Google, che non ci si fa più nemmeno così tanto caso. Però, questo è quanto. Quindi Google, apertamente, non è che nasconda questa attività, ma apertamente traccia le nostre ricerche per questi scopi, che sono di per sé anche positivi, per carità, ottenere un servizio migliore. Però, come dire, al costo, anche se non è un costo direttamente in denaro, al costo di perdere un po' la nostra privacy a favore di queste aziende pubblicitarie, eccetera, eccetera. Insomma, questo è tutto un discorso che abbiamo già anche fatto in altri video. Ecco che nel corso degli anni si è fatto strada, però si è fatto notare, appunto, un motore di ricerca alternativo, chiamato appunto DuckDuckGo, che non perde occasione e continua a sottolineare il fatto che, a differenza di Google, Yahoo, Bing e altri motori di ricerca, non traccia le nostre ricerche. Quindi, usando DuckDuckGo, non abbiamo l'effetto secondario di avere delle ricerche personalizzate, o non più di tanto personalizzate, o non così in modo spinto come con Google, perché appunto DuckDuckGo evita, evita di tracciare le nostre ricerche. Quindi, a questo motore di ricerca, come dire, non interessa il nostro profilo personale. Vuol solo fare il motore di ricerca neutro, senza minare la nostra privacy. Ecco perché vi sto presentando questo video, come un'alternativa. Se volete adottare anche voi DuckDuckGo, sappiate che queste sono le sue caratteristiche fondanti, principali ed anche interessanti dal punto di vista della privacy. È pur vero che forse adesso, in questo momento, oggi come oggi, come dire, stiamo chiudendo le porte della stalla quando i buoi sono già scappati, è un modo di dire. Ovvero, usando da tanto tempo, tanti anni, Google, ormai la nostra privacy, ciao ciao, ecco, insomma, siamo già conosciuti a Google. Iniziando ad usare DuckDuckGo, non è che poi Google si dimentica di noi. Però, come dire, meglio tardi che mai, perché non provare questo DuckDuckGo? se ci soddisfa, se il suo servizio è sufficiente per noi, se le risposte che ci dà questo motore di ricerca ci vanno bene, perché non usarlo invece di continuare a usare Google? Ecco, preferibilmente potremmo usare, appunto, questa alternativa di motore di ricerca. In un precedente video, precisamente quello delle pillole di Ubuntu, puntata numero 10, vi ho già mostrato, ho già spiegato, una delle pillole era come impostare e usare DuckDuckGo come motore di ricerca predefinito nel vostro browser Chromo Chromium. Quindi, riferitevi a quel video se volete sapere come impostarlo in modo che sia il motore di ricerca attivo per difetto al posto di Google, per intenderci. Quindi, questo è solo una nota, un promemoria, per dirvi che lì trovate le istruzioni su come fare. E parliamo un attimo delle impostazioni di DuckDuckGo, perché come altri motori di ricerca anche lui permette di personalizzare l'esperienza di utilizzo secondo delle nostre preferenze. Ecco, le impostazioni di DuckDuckGo sono qui, adesso sposto un attimo la scaletta perché è qui sulla destra, vedete qui il simbolo classico di un menu che si può aprire, in questa iconcina si clicca qui e appare un elenco di opzioni che ci permettono di gestire le impostazioni del motore di ricerca. Ecco, fra tutte queste impostazioni se noi clicchiamo, opzioni scusate, se noi clicchiamo sulle impostazioni avanzate le vediamo tutte praticamente, ci richiama la pagina con tutte le varie impostazioni, se no altri link richiamano specificatamente uno o l'altro sezione delle impostazioni. Ecco, ancora una volta mi sposto la scaletta. Vedete che questa è la pagina appunto delle impostazioni, c'è una sezione generale, la sezione del tema, io sto usando quello scuro, lo vedete da voi, è nero, l'aspetto, i font, non i font, di come devono apparire i risultati delle ricerche, che ne so, scritte in bianco con un colore di sfondo particolare, la dimensione del font, della pagina, eccetera, eccetera, la privacy, con i vari opzioni di privacy più o meno spinte, eccetera, eccetera, quindi qui, io vedete, ho messo per esempio la regione, la lingua che mi riguardano, altri metteranno le loro, si cerca dalla tendina i vari paesi, eccetera, eccetera, e potete accendere o spegnere certi flag di sicurezza più o meno spinte, eccetera, eccetera, e voilà, che unità di misura usare per le varie utilità del motore di ricerca, quindi il sistema metrico, quello statunitense o come dire, imperiale, una volta lo chiamavano, eccetera, eccetera, insomma, queste sono le impostazioni. Si schiaccia, salva ed esci e vengono salvate, diciamo, sulla vostra postazione, sul vostro pc localmente, vengono salvate queste impostazioni. Oltre a questo c'è una possibilità di salvare le impostazioni, proprio queste, nel cloud dedicato, cioè in un salvataggio remoto dedicato di DuckDuckGo a queste cose, voi potete salvarlo, qui, diciamo, sulla parte destra della pagina delle impostazioni trovate queste opzioni, qui, salvataggio cloud, io l'ho fatto, quindi è già abilitato, vedete, si può in ogni momento disabilitare questo salvataggio, qui potete in ogni momento vedere che cosa effettivamente viene salvato nel cloud, delle vostre impostazioni, qui le ritrovate, potete, c'è un pulsante anche per ripristinare le impostazioni di default, per difetto, e quindi l'importante, dicevo, l'opzione, oltre a salvare localmente, sul vostro pc, in questo momento, le impostazioni, potete anche salvare nel cloud, cos'è il vantaggio? che se reinstallate il vostro sistema operativo, o cambiate pc, lo installate da nuovo, eccetera, eccetera, riattivando, e reimportando, insomma, queste impostazioni dalla nuvola, dal cloud, potete evitare di dover fare, reimpostare tutto da zero, ecco, recuperate le vostre impostazioni precedenti, voilà, questo è quanto, per le impostazioni generali di questo motore di ricerca, si chiude, si apre, si chiude il menu, ancora una volta, vedete qua, e, a questo punto, riposiziono la mia scalettina, eccola qua, e possiamo passare adesso alle caratteristiche vere e proprie di utilizzo del motore di ricerca, finito i discorsi generali, passiamo alla pratica, ecco, le caratteristiche interessanti e utili di DuckDuckGo, perché è, sia come Google, Bing o altri, sono fondamentalmente dei motori di ricerca, quindi voi mettete uno o più parole, fate enter e vi darà un risultato, però hanno anche del valore aggiunto a questi motori di ricerca, hanno delle funzionalità in più, più o meno nascoste, ecco, conoscendole si può sfruttare appieno le potenzialità del motore di ricerca, ecco, prima cosa caratteristica di DuckDuckGo sono i cosiddetti chiamati Bang, Bang, vedete qui scritto Bang, che sono, come dire, traducibili in ricerche sui siti specifici, ecco, i Bang, come dico qui, sono delle abbreviazioni che si digitano dopo un punto esclamativo per eseguire la ricerca su determinati siti specifici, se io qua in cima nella barra di ricerca di DuckDuckGo digito un punto esclamativo, vediamo un po', forse non qui nella pagina delle impostazioni, scusate, torno sulla pagina principale, ok, eh, digito un punto esclamativo, eh, ops, scusate, vediamo un po', perché non funziona, scusate, il punto esclamativo, arrivo subito, eh, e rieccomi di ritorno, eh, cosa più unica che rara, eh, mentre vi stavo mostrando i Bang, ho visto che non funzionavano, mi cade l'occhio sul router e ho visto che il segnale ADSL se ne era sparito e quindi ho fatto una pausa finché non è tornato il segnale, bah, non succede mai, doveva proprio succedere mentre stavo registrando questo video, pazienza, adesso il segnale è ritornato e quindi possiamo proseguire nella nostra spiegazione, allora, i bank, dicevo, Bang, insomma, ecco, i bank, dunque, si attivano digitando un punto esclamativo nella barra di ricerca, quindi vedete, io metto un punto esclamativo e qui sotto appare una una tendina, o meno di tendina nel quale appaiono tutti i i Bang disponibili in questo momento in DuckDuckGo tutte le categorie di Bang disponibili qui ce n'è una parte poi digitando delle lettere si affina alla ricerca qua sotto nell'esempio qui nella scaletta per esempio voglio ricercare delle immagini dei pappagalli grigi su Bing quindi sul motore di ricerca alternativo a DuckDuckGo Bing in questo caso quindi come faccio? c'è un bang apposito che ha la sigla appunto punto esclamativo BI che sta per Bing quindi a scorciatoia quindi inizio a digitare BI e vedete che il primo non so perché è un po' grigio su nero non so se il contrasto è sufficiente comunque vedete qui il primo dei bang che dice Bing images immagini e la sua scorciatoia è appunto punto esclamativo BI quindi io faccio BI spazio e scrivo pappagallo grigio ecco ho impostato la ricerca con la sua scorciatoia quindi la ricerca dei bang non è che dovete per forza di cose tenere a mente la scorciatoia ma intuitivamente di solito le prime lettere indicano il motore di ricerca che volete usare se iniziate a scrivere con la G saremo nel mondo Google io ho provato per una volta a usare Bing mondo Microsoft quindi scorciatoia punto esclamativo BI spazio i termini di ricerca come se voleste cercare normalmente in DuckDuckGo però col bang davanti se fate enter cosa succede si esce da DuckDuckGo e si viene rimandati si richiama automaticamente il motore di ricerca Bing lo vedete qui con i termini di ricerca che abbiamo impostato e direttamente nella categoria immagini vedete e queste qui sono immagini di pappagalli grigi vabbè questo era solo l'esempio anche se sono simpatici e quindi il bank BI ordina diciamo così a DuckDuckGo di inviare i termini di ricerca a pappagallo grigio al motore di ricerca Bing e di aprire il sito direttamente avete visto cosa è successo torno indietro e così via per tutti gli altri bank possibili come dico qui non è necessario memorizzare appunto i bank disponibili perché appena digitato il punto esclamativo si apre una tendina che ce li suggerisce appunto e con le frecce su e giù si scorrono le categorie principali posizionato su una categoria si può usare la freccia sinistra o destra per aprire la sottocategoria di bank e anche perché questi bank sono anche tanti quindi come dico qui posizionati quindi andiamo un po' facciamolo quindi punto esclamativo queste sono le categorie principali con le frecce su e giù si scorrono le categorie principali vedete come ho fatto un attimo fa e posizionato su una categoria tipo vediamo un po' b ops ecco no non era proprio quello che volevo eh ok vediamo se c'è una categoria ma tipo bing ecco con le frecce sinistra o destra posizionato quindi in questo caso sono posizionato su bing images avete visto che qua sotto si è aperto tutto un insieme di bing o comunque con la b iniziale la sottocategoria di tutti i bank che iniziano con la b vedete più o meno lunghe le scorciatoie vedete quante ce ne sono in realtà eh con la b e sopra man mano che andate con le frecce su e giù per scorrere queste categorie vedete che sopra eh nella barra di ricerca man mano vi riporta il bing su cui siete posizionati eh vedete frecce su e giù per scorrere le 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 categorie frecce sinistra destra per per entrare in una sottocategoria eh così questo queste note giusto per sapere come navigare fra i bing che sono tanti non dovete memorizzarli appunto poi seconda caratteristica interessante di DuckDuckGo sono le cosiddette instant answer ovvero le risposte istantanee quindi grazie a delle parole chiave che bisogna conoscere a questo punto grazie a delle parole chiave si possono ottenere delle informazioni direttamente nella pagina dei risultati della ricerca ecco qui alcuni esempi per capire cosa intendo per esempio meteo oppure weather in inglese è la località e vi dà le informazioni meteorologiche di quel tal sito quindi se io faccio per esempio meteo locarno meteo locarno enter ops weather weather vediamo un po' ecco qua scusate meteo da quando ho creato la scaletta adesso forse non funziona più come parola chiave vediamo un po' eh no vedete avranno cambiato qualcosa nella gestione del motore quindi meteo in realtà non è più una parola chiave che richiama quello che avete visto un attimo quindi lasciamo la parola inglese weather che è quella che funziona a questo punto correggo al volo la scaletta perché se no vi do un esempio che non funziona e dite ma com'è che non funziona allora quindi weather è diciamo il tempo la meteo in inglese fate enter weather con la vostra località e vedete che vi appare questa questa sezione che precede le varie voci risultato della vostra ricerca perché poi qui sotto seguono i normali il normale elenco dei risultati della ricerca con quelle parole qua e però per primo DuckDuckGo si occupa di metterci un inserto che è la risposta quindi l'instant answers la risposta immediata della categoria meteo ecco vedete qui che ci dice che ne so oggi il tempo è così domani dopodomani eccetera eccetera tutta la settimana non è così vedete e cosa volevo dire mi sfugge no non mi sfugge niente ecco vedete che quindi con una parola chiave potete ottenere delle informazioni direttamente nel motore di ricerca nella fine nella pagina dei risultati del motore di ricerca senza uscire necessariamente nei siti specifici è vero che DuckDuckGo sfrutta un sito questo forecast.io per darci queste informazioni però non necessariamente dobbiamo andare per forza su quel sito perché DuckDuckGo ci pensa già lui a darci queste informazioni un'altra parola chiave sperando che non abbiano ancora cambiato è calendar quindi ci dà il calendario vediamo un po' calendar ecco qua vedete risposta diciamo come dire una categoria di risultato alla nostra richiesta è risposta poi ci sono quelle standard tipo immagini e video per calendar non c'è nessun video però avete capito che è un po' come google qui quando fate una ricerca lui vi dà sempre le risposte normali diciamo l'elenco dei risultati per la ricerca calendar poi vi dà la sezione immagini vedete video quando ce n'è in questo caso non ce n'è e qui addirittura DuckDuckGo dà anche una categoria significati quindi va a recuperare il significato del termine calendar in vari dizionari e siti dove vi spiegano cosa sono i calendar ecco vedete qui dove c'è questa icona potete ingrandire questa sezione con ulteriori significati eccetera eccetera vedete qui è come google appena sotto la barra di ricerca ci sono le varie sezioni in cui vengono ordinati i risultati e suddivisi ecco il primo comunque la risposta qui vi mostra calendar così vi mostra il mese corrente con il giorno corrente evidenziato qui potete anche scorrere i mesi direttamente qui vedete potete anche dargli una specifica data tipo calen qui ho lasciato via la n ecco calendar marzo 1950 per dire scusate calendar marzo 1950 lui si posiziona nel calendario di marzo del 1950 e vedete che anche indietro avanti nel tempo è un calendario diciamo che è vero una cosa da notare che al momento queste parole chiave o magari per sempre chi lo sa non so se verranno mai anche tradotte in altre lingue però funziona tutto come sempre nella lingua franca della rete che è inglese ormai qui il compromesso è un po' questo però queste funzionalità ci sono inglese o non inglese non sono poi neanche termini così difficili da tenere presenti se poi si usano spesso vi si tiene a mente facilmente io qui vi presento alcune di queste parole che ho trovato in rete di quelle interessanti poi se le usate o no interrettamente quelle che usate un altro parola chiave interessante è define ovvero trovare la definizione di un termine in inglese quindi comunque in inglese la definizione verrà ritornata tipo kernel se io faccio define kernel scusate che è meglio che pulisco define kernel quindi definisci mi kernel facciamo enter e vedete che oltre le solite immagini del kernel il video se ce n'è sì che ce n'è che parlano di kernel ci sono i risultati soliti con una definizione il solito inserto della definizione qui c'è in inglese come ho detto ancora una volta spiega cosa vuol dire kernel quindi i vari significati fra i quali vuol dire per esempio un grano o una semente quindi kernel è il nucleo di una semente così come il kernel lingus è per esempio il cuore di un sistema operativo informatico eccetera eccetera e altri significati possono essere trovati qui addirittura c'è la possibilità di sentire come si pronuncia in inglese la parola sentite ecco addirittura vedete che tutto nella pagina del motore di ricerca sono interessanti queste opzioni in più un'altra carina interessante parola chiave è recipes ovvero ricetta se si dà un ingrediente a seguire verranno tornate delle ricette per quell'ingrediente per esempio vediamo un po' recipes polenta prima che mi è venuto in mente vedete che c'è la categoria di risultati ricette oltre sempre alle immagini e ai video c'è anche un sito un sito scusate una una categoria di risposte che vi danno delle ricette che hanno a che fare con la polenta vedete qui guardate un po' quanta roba e anche qui naturalmente è legato a un sito questo inserto di risultati specifici potete anche andare sul sito e qui c'è sempre il link in alto a destra del sito dal quale provengono queste informazioni se facciamo clic e voilà questo è il sito dal quale DuckDuckGo ha preso le informazioni per presentarci però ripeto appunto il bello di questo motore di ricerca è che non dovete necessariamente uscire sul sito esterno ma vedete che avete anche le vostre belle ricette altra parola chiave Movies with quindi film qui stiamo in ambito di cinema film con un attore o un determinato personaggio e vi usciranno queste informazioni relative a quel dato personaggio che ne so Movies with Asterix così un classico quindi cinema film che hanno a che fare con Asterix e vedete che ancora una volta vengono presentate le locandine immagini e roba varia che hanno a che fare con Asterix e poi se cliccate sulla singola icona questo non l'ho fatto prima vedete se cliccate voi vedete più in grande la locandina magari con qualche informazione in più qui sulla destra con i dettagli quindi Movies with sono due parole che lavorano assieme ecco questa qui poi date un personaggio un attore a seguire che ne so ecco qua Meryl Streep che non è un personaggio ma è un'attrice e vedete che nella categoria di risultati e film escono i film che ha a che fare con Meryl Streep la riconoscete qui in alcune locandine Iron Lady del 2011 qualche dettaglio potete cliccare su Review per andare a vedere le recensioni eccetera eccetera ecco vedete tutto all'interno della pagina del motore di ricerca Duck Duck Go non male poi c'è un'utilità Stopwatch che è praticamente un cronometro Stopwatch voi mettete la parola chiave Stopwatch con niente d'altro solo la parola chiave vedete che parte un cronometro integrato voi lo potete far partire vedete qui potete memorizzarvi i giri quindi se state guardando una gara con il vostro portatile potete anche tenere presente i giri fate Stop Reset per ricominciare Start eccetera eccetera è un bel cronometro utile e voilà Stopwatch si possono prendere che in tempi sul giro right Grazie a tutti.